Nella casa del grande fratello c'è stata una novità nelle scorse ore. Una concorrente è uscita dal reality show, in modo temporaneo stando al comunicato ufficiale, ma le voci che stanno circolando con forza parlano di lei incinta. Quindi, potrebbe aver abbandonato la dimora per effettuare degli accertamenti medici necessari a verificare la sua gravidanza, sono ovviamente rumor, visto che non ci sono ancora notizie certe, ma ora sempre dall'esterno del grande fratello sono stati i familiari di questa concorrente, che si presuppone possa essere incinta, ad aver rotto il silenzio. E ora sappiamo sicuramente qualche dettaglio in più. Grande fratello, concorrente incinta? Arriva un comunicato dei familiari. Sui social si era parlato di un ritardo di una decina di giorni da parte di questa concorrente del grande fratello. Dunque, le indiscrezioni sul fatto che si è incinta sono state tantissime, ma ora è stato pubblicato sui social un messaggio dei suoi parenti più stretti, che hanno spiegato quale sia l'attuale situazione. Le news riguarda Ilaria Clemente e i familiari, insieme agli amici dell'esperta di sicurezza informatica, hanno scritto, Ci teniamo a ringraziare tutti per i messaggi ricevuti in queste ore. Ilaria sta bene e sarà lei eventualmente a spiegare la motivazione della sua momentanea uscita dalla casa. Poi è stato aggiunto un cuore rosso e, dopo questo messaggio, i telespettatori sono ancora più convinti che sia davvero in dolce attesa. Il sito Bixi ha inoltre fatto sapere che Ilaria dovrebbe rientrare nella casa del GF mercoledì o giovedì. Quindi, potrebbe essere lei stessa appunto a fornire tutte le spiegazioni del caso al pubblico e agli altri geffini.